Il colpo d'occhio a volte trae in inganno, allora meglio portare esempi concreti. L'attuale via Tifernate è larga 5 metri e mezzo, via Perugina gode di un metro e mezzo in più, arrivando a 7. Così il geometra del comune, Francesco Pierotti, responsabile del progetto, spiega come le preoccupazioni degli Ogubini siano infondate. Via Perugina non creerà problemi alle auto e a pullman di passaggio in entrambi i sensi di marcia. La carreggiata è larga per tutto il tratto, 7 metri, di cui 3 metri e mezzo a corsia, sufficienti per un transito in sicurezza nel rispetto delle indicazioni del codice della strada. Il cantiere si è spostato da settimane nella parte alta della direttrice d'ingresso al centro storico, a Monte della Rotatoria, e per ora si ferma appena prima della chiesa di Madonna del Prato. Dopo Pasqua si dovrebbe iniziare a lavorare da lì fino all'incrocio con un via del Mausoleo. Entro metà maggio i lavori dovrebbero essere terminati nel rispetto dei 210 giorni indicati dalla ditta, da quel 17 novembre, giorno dell'avvio. La tabella di marcia risulta dunque perfettamente rispettata e se non si presenteranno in toppi dell'ultimo minuto, per il mese di maggio il restyling della principale via d'accesso al centro sarà terminato. Ultimo intervento sarà l'asfaltatura di 5 centimetri dell'intero tratto. Il futuro poi parla di una rotatoria in piazza 40 Martiri che andrà ad eliminare l'installazione dei quattro semafori. Intanto però gli augubini spesso si fermano a chiedere agli operai delucidazioni sull'ampiezza delle corsie e dei marciapiedi, con il timore e lo scrupolo che svoltare verso via Beniamino Baldi potrebbe essere un problema sia per le auto che per gli autobus, ma i tecnici rassicurano che non sarà così. I marciapiedi vanno da un minimo di un metro e mezzo di profondità fino anche a più di due metri in base alle esigenze dei vari punti e questo nulla toglierà alle possibilità di manovra, garantiscono ancora i tecnici. Non mancano anche a fianco della carreggiata salendo sulla sinistra spazi per parcheggi segnalati con le apposite strisce bianche o zona di breve sosta come nell'area attiva alla chiesa.